Carissimi amici e amiche, bentornati, ben ritrovati dopo la nostra piccola parentesi di pausa estiva che spero per quanto riguarda questo ciclo di catechesi per chi lo sta seguendo abbia avuto anche un po' la funzione di digerire perché con l'ultima in caricati che c'è stata è finita la seconda parte di questo ciclo che si chiama appunto dal non senso alla vita di cielo e oggi comincia la terza, l'ultima parte, probabilmente sarà un pochino più breve perché poi le spiegherò chi vuole approfondire come e dove fare per approfondire ciò che diremo in questi incontri conclusivi volendo un po' e come sempre è importante specialmente dopo un po' di sosta volendo un po' situarci all'interno del nostro percorso quello che abbiamo fatto e quello che ci resta da fare dobbiamo dire questo allora, si chiama questo ciclo dal non senso alla vita di cielo siamo partiti dalle situazioni di non senso di disagio di, se vogliamo, depressione di malessere profondo di ciò che quasi tutti gli uomini si portano nel cuore ma che quasi nessuno se lo dice pochi ammettono pochissimi decidono di affrontare la situazione ancora meno trovano i mezzi adeguati per farlo meno ancora riescono a uscire da questa situazione di non senso per cominciare a vivere per quanto riguarda quello che percepisco quella che è stata la mia esperienza di vita come uomo anzitutto e poi ancora di più come sacerdote si tratta di una situazione abbastanza diffusa l'uomo sta male e non sa perché attribuisce questo malessere a tanti fattori quasi sempre esterni a lui a tante circostanze si pensi anche adesso ai tempi difficili che stiamo vivendo tempi tribolati tempi travagliati tempi difficili se vogliamo tempi atipici tempi anomali quindi molte persone pensano sto male, te credo con tutto quello di cui siamo circondati come vuoi che sto domanda siamo sicuri che tutti stiano così male noi abbiamo il nostro grande Dio e Maestro Gesù che in uno dei tanti discorsi che fece l'ho ripreso recentemente in un'omelia perché era capitata in una delle liturgie dominicali abbastanza recenti ha detto una cosa molto importante non dobbiamo andare a cercare la fonte del malessere di ciò che ci fa stare male fuori di noi non è ciò che entra nel cuore dell'uomo a contaminarlo ma ciò che sta ed esce dal cuore dell'uomo quindi intorno a noi ci può essere anche il finimondo questo finimondo non ti distrugge se dentro di te c'è altro allora la prima parte di questo percorso era finalizzata a farti prendere coscienza se non l'avessi già fatto che i guai non devi andare a cercare fuori si trovano dentro non di tutti te ne devi accollare la colpa assolutamente qui non si tratta di nessuna forma di corporizzazione che porta ad una depressione ancora più profonda no no però si tratta di prendere atto della realtà di quello che ci portiamo dietro e ci portiamo dentro che come abbiamo visto ampiamente dipende fondamentalmente da ciò che abbiamo vissuto se vogliamo ciò che abbiamo subito a tutti i livelli e da ciò che abbiamo fatto abbiamo poi cominciato dopo aver approfondito queste cose cercare di conoscere un po' meglio chi siamo quindi come che cos'è un essere umano non semplicemente secondo la descrizione biologico naturalistica descrittiva se apri i libri dei moderni scienziati l'uomo lo hanno vivi sezionato fino all'ultimo atomo d'accordo sanno benissimo cos'è il DNA sanno benissimo tutti quanti i centri motori come funziona il cervello questo cervello non troppo bene però tante altre cose ma chi è l'uomo profondamente e abbiamo cercato di descriverlo abbiamo anche poi a un certo punto aperto la parentesi che non è una parentesi è una parentesi fondamentale della rivelazione quindi dentro questo quadro per certi aspetti suffragato dall'esperienza che noi ci abbiamo quindi dalla dalla realtà fenomenologica se si vuole usare una parolona o empirica se vogliamo scendere di un gradino nell'impegnatività della parola che luce dà la fede su questa realtà come mai molte volte noi facciamo il male che non vogliamo non facciamo il bene che vogliamo come mai dentro di noi ci sono una montagna di sentimenti di emozioni di situazioni di passioni che prendono il sopravvento che non riusciamo a gestire non riusciamo a dominare abbiamo visto quello che dice la fede e la rivelazione al riguardo e quindi spero che abbiamo capito il motivo per cui mi sono fatto sacerdote che vivere con Gesù o senza Gesù come diceva il Vangelo della Messa di oggi non è semplicemente mettere una toppetta su qualche problema c'ho qualche problema ma mi rifugio nella religione così questo problema un pochino si allenterà troverò un po' di sollievo troverò un po' di pace ecco non è questa la nostra fede Gesù dice che una visione di questo genere triste riduttiva è del tutto sbagliata anche perché se tu metti un pezzo di stoffa nuova sull'uomo vecchio quindi su una struttura vecchia non ne trarrà giocamento perché molta gente abbiamo forse non visto direttamente non ricordo quello che ho visto in tutte le catechesi però tra i pochi tra i pochi non diciamo pochissimi ma tra le mie parti pochissimi però tra i pochi che continuano a frequentare la chiesa ci dici che differenza c'è a frequentare la chiesa o a non frequentarla dimmi un po' ci sono purtroppo molti che hanno un contatto con la fede simile alla toppa per carità pregiatissima perché le cose che vengono dalla fede sono di grande cosa ma che tu appiccichi sul vestito vecchio poi quindi a parte che è un brutto quanto la fame si vede subito ma non è affatto ciò che la fede può darti la fede ti fa ti fa nuovo completamente vino nuovo in altri nuovi niente toppa nuova sul vestito vecchio c'è la veste bianca c'è la veste nuova di cui parla il libro dell'apocalisse alla sposa gli hanno dato delle vesti nuove delle vesti bianche meravigliose e quindi abbiamo visto ricordo che tanti anni fa fece un'omelia mi sa in una festa dei santi mi è rimasto impresso il titolo che si chiamava o santi o niente o santi o niente perché se non si vive la fede come dall'altro la chiesa ci esorta a fare i documenti del magisterno uno in genio intanto per citarne uno se non si prende sul serio la vocazione universale alla santità cioè che la santità non significa fare chissà quale vita strana fare chissà quali gesti ascetici straordinari che ti devono venire le estasi per forza cose di questo genere cioè le immagini un pochino per carità in certi aspetti anche comprensibili che ci abbiamo ma prendere sul serio il Vangelo prendere sul serio Gesù prendere sul serio la bellezza della nostra fede sì per carità meglio vivere vicino ai sacramenti come dire al 30% quindi facendoli funzionare al 30% che stanno lontano del tutto quindi questo è sicuro è corto si capisce bene quello che dico ma questo non ti cambia la vita non ti cambia la vita siccome io ho visto che cosa fa ero vedi quando ero molto giovane la fede in chi la prende sul serio e come cambia la vita e come vince la morte soprattutto chi mi conosce questo lo sa bene non mi ricordo se l'ho se l'ho accennato durante questo ciclo di carichesi ma il motivo per cui sono diventato sacerdote quando ho visto soffrire prima che morire da santo il mio migliore amico ormai sono passati quasi 30 anni era il 1993 un ragazzo apparentemente non amare come tutti gli altri ma che ha vissuto un calvario che non è da augurare neanche peggiori nemici molto peggio di quello che si vede in giro adesso molto peggio con una forza che non era la sua sovranaturale straordinaria spettacolare io vedendo quel fatto compresi che la fede è quella cosa che se ce l'hai veramente la vita è un'altra cosa se non ce l'hai la vita è più o meno quella che ci hanno conti nonostante fossi felicemente fidanzato e impegnato in una relazione che avrebbe dovuto portarmi alle sante nozze speriamo sante dissi no no qui bisogna dare la vita perché qualcun altro possa se il Signore si degnerà di accettare il mio aiuto alla disponibilità che ci metto avere una fede simile a quella di Francesco cioè quella che ti cambia la vita quella che ti fa affrontare a 23 anni un calvario che non si augura neanche al peggiore dei nemici e la coscienza della morte Francesco sapeva che era arrivato il momento di morire e io non ricordo bene quello che ha detto io sono pronto e facciamo la volontà di Dio mamma e ricordati che c'è un altro figlio io queste parole le ho sentite con le vecchie mie parole uscite da un corpo provato ridotto ormai allo stremo bianco come un cadavere senza si finire anche un capello labbra screvolate mani screvolati piedi screvolati un ragazzo di 23 anni insomma che sta nel pieno del vigore della giovinezza ridotto in quel modo dire quelle parole con piena coscienza questa non è roba che viene da noi questa roba che viene da Dio e così è nato tutto e il senso di questo percorso è questo quello che annuncia il cristianesimo è questo io a diverso tempo che sto sollecitando i fedeli anche dinanzi alle tante cose che stiamo vivendo sappiamo tutti di cosa si sta parlando chiedersi come stiamo reagendo come la stiamo vivendo e soprattutto farsi una domanda ma secondo me se io ci avessi una fede come dice Gesù che spostare montagne se io ci avessi una fede alimentata alla grande alla sorgente viva dei sacramenti se io ci avessi una fede coltivata attraverso una formazione solida buona lettura buoni ascolti e se io ci avessi una fede blindata da una vita di preghiera interiore forte solida costante profonda intensa di qualità e di quantità ma come la vivrei la situazione che sto vivendo che stiamo vivendo punto interrogativo io lascio sempre il punto interrogativo mio compito è provocare stimolare buone riflessioni quello di ogni singola coscienza è trovare la risposta propria che conosciamo tutti quanti benissimo perché dinanzi alla nostra coscienza dinanzi al silenzio di essa così come dinanzi a Dio non possiamo mentire quindi qual è la soluzione al non senso la soluzione al non senso è Gesù detto proprio in due parole è Gesù figlio di Dio e nostro salvatore ora c'è la santità il cammino verso la santità da questa sera cominciamo però a fare uno step ulteriore perché per una rivelazione privata metto subito le mani avanti e quindi chi è scettico dinanzi a rivelazioni private chiuda subito e si contenti di quello che ci siamo detti fino adesso che insomma già è qualcosa insomma non è che è proprio niente se lo si prende sul serio e lo si mette in pratica attenzione non certamente per chi l'ha detto ma per quello che è stato detto spero insomma che sia stato detto bene le intenzioni erano le miglioni però insomma del percorso sono abbastanza convinto insomma anche perché è stato più volte testato da tanti santi nel corso della storia quindi ci possiamo fidare esiste non soltanto la santità esiste la santità delle santità esiste non soltanto la felicità che già si raggiunge attenzione con con un cammino serio di santità ma esiste la pienezza della felicità esiste non soltanto la possibilità di vivere in maniera giusta corretta santa ma di vivere una vita simile a quella che si vive ma che vivono e beati in cielo esiste la possibilità non soltanto di imparare sempre più e sempre meglio cosa da cui dipende moltissimo della nostra esistenza a discernere come esorta San Paolo a fare la volontà di Dio per poterla fare mettere in pratica nelle piccole come nelle grandi scelte di vita perché il tasso della nostra felicità dipende solo da questo da quanto siamo allineati con quello che Dio vuole o al contrario da quanto allineati non ci siamo ma poi l'ultimo step e questo è un punto che dovremmo un attimo approfondire esiste la possibilità non soltanto di farla la divina volontà ma di avere la vita stessa la potenza ecco perché dicevo della divina volontà dentro dentro la nostra anima dobbiamo capire semplicemente una cosa figlioli miei cari cioè quando si parla di volontà divina basta pensare a un passo della sacra scrittura egli parla e gli parla e tutto è fatto comanda e tutto esiste cioè la potenza della volontà divina possiamo immaginarcela se pensiamo a qualche verità di fede Dio disse sia la luce e la luce fu Gesù dice al paralitico alzati e il paralitico si alza Gesù dice all'ebroso sii guarito e l'ebroso è guarito istantaneamente Gesù dice al diavolo taci esci da costruire il diavolo esce subito può fare il diavolo a quattro quanto vuole ma esce subito Gesù dice al cieco nato quindi uno a cui gli occhi ne sono proprio venuti abbi la vista e gli occhi si formano gli occhi figlioli miei cari andiamo a prendere qualche libro di anatomia oppure chiediamo a qualche super scienziato se è capace a farlo un occhio dato che oggi si credono di essere padroni del mondo è capace a fare un occhio dal nulla un occhio è non tanta cosa tanto complicata è mica un essere umano un occhio sanno benissimo come funziona un occhio quello che c'è dentro quali complicatissime leggi di ottica che ci sono dentro che io non ci capisco quasi niente insomma ma farlo no e se anche fossero capaci ci vorrebbe del tempo ma in Dio c'è l'istantaneità tanto per farci un esempio attuale se Dio se Dio volesse porre fine a tutto quello che ancora oggi stiamo vivendo questa catechesi si data per chi la vedrà nel futuro 3 settembre 2021 insomma no a due giorni dall'entrata in vigore in Italia di ulteriori misure cautelari contro la terribile pandemia ci crediamo che se Gesù dice ah finito tutto domani mattina ci alziamo e non c'è più niente anzi non domani mattina perché se lo dice tra due minuti adesso basta è finito tutto se qualcuno non ci crede e come dire non è in comunione con la fede divina e cattolica perché la fede divina e cattolica crede che a Dio basta volerla una cosa perché quella cosa immediatamente si faccia senza possibilità alcuna di resistenza da parte di nessuno il fatto che Dio rispetti e questo lo fa sempre la libertà delle creature intelligenti che lui stesso ha creato non toglie che se lui volesse la potrebbe tranquillamente scavalcare in qualunque istante allora uno potrebbe pensare ah allora Dio potrebbe mettere fine e non lo fa ma allora che razza di Dio è come pensano molti bestemmiatori pagani dire una cosa di questo genere è una bestemmia oggettiva anche se forse chi lo dice speriamo non se ne renda conto attenzione perché se non lo fa se non lo fa vuol dire che non è bene farlo perché la grande potenza della divina volontà e questa è una cosa che sa fare soltanto Dio è quella di utilizzare il male per trarne beni maggiori questo ce lo dice la fede ma l'apparente apparente attenzione apparente si mettano tre sottolineature l'apparente prova dei fatti sembra quasi sempre attestare il contrario di quello che la fede ci dice ecco perché la fede è una grande cosa meritoria allora con questa sera ci introduciamo nel grande tema della vita di cielo cos'è la vita di cielo ho parlato volutamente della divina volontà io prima di introdurre a larghi linee insomma alcuni punti essenziali di questo argomento voglio arrivarci voglio farci arrivare l'ascoltatore che magari non conosce alcune fonti particolari provenienti da una santa donna che è in corso il processo di verificazione e che ha lasciato un'opera scritta nell'arco di 40 anni composta di ben 36 volumi insomma quindi non è uno scherzo allora però parliamone a prescindere ora quando noi diciamo il padre nostro una cosa facile facile chi ascolta questa catechesi anche se non ci avesse un minimo di cultura religiosa pensi al padre nostro il padre nostro sono 2000 anni che i battezzati imparano a pregare Dio con la preghiera del padre nostro e dicono padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome cioè l'abbiamo visto a suo tempo fammi diventare santo la prima cosa che chiediamo al Signore poi venga il tuo regno attenzione venga il tuo regno ci vuoi come è venuto Gesù sulla terra sulla terra c'è la Chiesa la Chiesa non è una sorta di regno di Dio sì e no i documenti del Magistero della Chiesa dicono che nella Chiesa c'è l'inizio del regno di Dio ma il regno di Dio non c'è ancora sulla terra non mi sembra proprio che Dio regni a livello universale nel mondo nel mondo per ora sta regnando ancora qualcun altro ce l'ha detto Gesù nel Vangelo che è il principe di questo mondo per questo ci ha insegnato ad invocare il suo regno venga il tuo regno e poi attenzione quindi è uno step progressivo no? prima la santità poi il regno di Dio e qual è il frutto di questo grande regno di Dio? che significa il regno di Dio in un regno degno di questo nome il re è il re è venerato stimato rispettato obbedito e quello che il re dice è legge assoluta ci si pensa nemmeno quindi sia fatta la tua volontà attenzione a queste parole come in cielo così in terra sicuti in cielo et in terra osen ora no per chi conosce un po' di greco kaepites ghes come in cielo così in terra che significa questo? avete mai pensato che significa? fare la divina volontà come in cielo come la fanno in cielo la volontà divina? cos'è il cielo? sapete cos'è il cielo? il cielo è un luogo dove tutti vivono di volontà divina perché la volontà divina tra le altre cose è la sorgente dell'infinita felicità che Dio è e ha e dell'infinita felicità generata ininterrottamente dai palpiti di questo divino volere che ininterrottamente genera produce gioie felicità gaudi inenarrabili ineffabili sempre nuovi tutto questo è possibile viverlo sulla terra non dobbiamo aspettare il paradiso amici miei detto dal non senso alla vita di cielo ma questo non è un po' di più di quello che hanno vissuto i santi è certo che è un po' di più è un po' di più di quello che hanno vissuto anche i grandi santi anche Padre Pio anche Padre Pio anche Santa Veronica Giuliani anche Santa Veronica Giuliani è roba grossa allora Gesù ci ha insegnato a chiederle questa cosa cioè qui non è che c'è possibilità io non ci credo e no qui non sto parlando di nessuna rivelazione privata rifletta l'ascoltatore e pensi tu chiedi ogni giorno a Dio sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra spero che ascolta queste catechesi insomma che un Padre Nostro al giorno o meno uno lo dica se non cominci a dirlo cioè Padre Nostro bisogna dirlo è la preghiera delle preghiere siamo d'accordo su questo no? quindi questo è quello che Gesù ci ha insegnato a chiedere ci sarà un motivo Gesù intelligente cioè il Padre Nostro è la preghiera per noi più importante perché questa non è parola umana il Padre Nostro lo ha pronunciato sillaba per sillaba il nostro Signore Gesù Cristo è come i salmi dell'Antico Testamento anzi i salmi sono ispirati per carità dallo Spirito Santo il Padre Nostro è stato proprio pronunciato insegnato sillaba per sillaba da Dio ha fatto carri quindi cioè non esiste preghiera che uguali il Padre Nostro non c'è ora facciamo uno step indietro se una persona sceglie come auspico ci siamo affermati qui la volta scorsa dice io ci credo ma convinto sto ciclo di catechesi o altri più belli che non volete sentire in giro quante ne volete investiamo sulla santità se comincio un cammino di santità sarò felice qual è l'esperienza che noi facciamo tu cominci ma come ci siamo detti a suo tempo il cammino della santità richiede volontà ferma di intraprenderlo è costanza e perseveranza perché non è cosa che si fa con giorno io voglio togliermi questo difetto comincia a pregarci sopra e comincia a provarci ma non ti pensare proprio che tu togli un difetto dall'oggi al domani è un lavoro faticoso di uturno devi usare i mezzi la gente trascura completamente la preghiera e i sacramenti dice ah ma io dico qualche preghiera quando me la sento non c'è nessuna speranza di cambiare noi stessi se stiamo lontano dalla preghiera profonda e dai sacramenti perché noi non abbiamo la possibilità di farlo provaci quanto ti pare vedrai vedrai che ti sfragasserai contro il muro San Francesco di Sallo lo racconto sempre che è passato alla storia come il santo della dolcezza noi dovremmo adesso ormai aver assimilato queste cose perché ne abbiamo parlato precedentemente aveva il temperamento collerico cioè se c'è una cosa proprio tabù per un temperamento collerico insieme all'umiltà del temperamento collerico è strutturalmente tendente alla superbia ma è anche strutturalmente tendente all'ira contrario di quello che Gesù propone parlate da me che sono mite umile di cuore ecco il contrario dei difetti dominati di un temperamento collerico ma per un temperamento collerico dominare la veemenza violentissima con cui sente la passione dell'ira ma è un'impresa titanica san francesco di san passata la storia con il compensato per la dolcezza ha lasciato scritto che lui ci ha messo 22 anni per domare questa passione impazzita che aveva e durante questi combattimenti come sappiamo c'era una vecchia canzone di un cantautore americano che diceva così one step up and two steps back un passo avanti e due indietro una volta va meglio dico oh che bello sono riuscito a trattenermi e due volte dopo faccio il finimondo e mi viene una depressione ok questo è alimento di tutti i santi ci sono passati prima di noi abbiamo visto da cosa dipende questo da cosa dipende dalla grande ferita del peccato originale questa verità di fede che è fondamentalissima anche se oggi è abbastanza dimenticata ci deve far ricordare che la nostra condizione terrena è problematica è proprio di interdizione interdizione cioè noi siamo veramente messi male abbiamo dei nemici scrive San Paolo e poi appresso a lui un estuolo di santi dentro di noi ora tutto questo è successo dopo ne abbiamo parlato la caduta di Adamo abbiamo anche visto cosa c'era prima della caduta di Adamo tutti quanti doni straordinari soprannaturali preternaturali e la perfezione di quelli naturali dati da Dio ad Adamo secondo quello che la Chiesa ha sempre creduto e ha sempre insegnato ora Adamo però per questo che Gesù ha detto questa cosa nel Padre Nostro e qui faccio riferimento anche se ancora ne parlo a ciò che Gesù ha rivelato attraverso questa rivelazione che però vedete come tutte quante le rivelazioni private io non conosco quante ne volete di rivelazioni private d'accordo no per una come dire mia passione personale nel senso che io mi dispiace parlare troppo di me stesso mi assicuro insomma che la Bibbia credo di conoscerla abbastanza bene quindi proprio il mio trascorso il mio passato il mio vissuto mi ha fatto stare a contatto veramente assiduo e profondo con la Bibbia per tanto tempo d'accordo quindi non è soltanto un problema di studi seminaristici quindi e sappiamo benissimo che la Bibbia quindi la rivelazione di Dio scritta è la fonte indiscussa e fondante di ciò che Dio ci ha detto insieme alla tradizione al magistero fonda quella che si chiama la rivelazione pubblica che è quella necessaria e imprescindibile per andare in paradiso le rivelazioni private non sono mai in nessun caso paragonabili alla rivelazione pubblica però che cosa fanno? noi sappiamo bene che la Bibbia non è un romanzo non è nemmeno un fumetto quindi non è una rivista di gossip quindi che tu la leggi e capisci quello che c'è scritto la Bibbia è un oceano di misteri è un mare di misteri quello che la Chiesa stessa ma la Chiesa lo sa ha capito della Bibbia è una piccola parte di quello che nella Bibbia c'è ci sono assicuro insomma ci sono dei libri ci sono dei passi ci sono dei passaggi ci si sono scervellati fior di teologi ma intelligenze fuori dal comune ma hanno cavato ben pochi ragni dal buco quindi nella tradizione nel magistero sappiamo che la tradizione nel magistero vanno avanti lentamente al passo con la storia quindi la rivelazione è chiusa sì ma la la sua comprensione quindi l'estrarle dalla rivelazione pubblica che si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo tutte le sue ricchezze è compito che ha svolto la tradizione della chiesa e che continua a svolgere l'interrottamento del magistero esempio classico che si fa la Madonna è da sempre stata immacolata quindi non è che l'immacolata ha cominciato ad essere immacolata dal 1854 però nel 1854 la chiesa non soltanto che ne ha preso indefettibile e divina coscienza ma l'ha anche proposta al mondo non soltanto come verità di fede ma come dogma divinamente rivelato da Dio e come tutti quanti i dogmi divinamente rivelati da Dio anche se nella Bibbia non lo troverete mai scritto che la Madonna è immacolata concezione ma ci sono velati tutti quanti una serie di input che fanno capire che lei lo è questo per dire che la Bibbia è scritta in una maniera tale che non c'è scritto anche un diritto la Bibbia la Bibbia la Bibbia la Bibbia la Bibbia facendone una sorta di panacea come è accaduto ai tempi della riforma protestante ma chi di noi può sognarsi di dire che la Bibbia è la parola di Dio non stia al primo posto assoluto sì però la Bibbia non è un romanzo non è facilmente comprensibile da tutti e molti misteri che in essa ci sono non sono stati ancora svelati non sono stati ancora compresi gli dogmi mariani ce ne stanno quattro il quinto è il più controverso di tutti è messo che suscita altro che divisioni lotte già prima ancora quindi tra fautori e detrattori è quello della corredenzione non è un mistero io sono sicurissimo che questo dogma sarà fatto non a breve ci vorrà qualche tempo non troppo secondo me non mi voglio sbilanciare con i numeri ma non troppo non troppo non significa anni ma si farà ma quando si farà il dogma della corredenzione chiunque lo farà qualunque papa si imbarcherà in questa impresa vedrà come hanno già fatto Pio IX e Pio XII che anche se nella Bibbia non c'è scritto che la Madonna è la corredentrice come non c'è scritto che è stata assunta in cielo come non c'è scritto che è immacolata d'accordo e come addirittura se uno non sta attento ad interpretare bene i testi infatti gli eretici li travisano ed è stata una cosa contestata fin da primi secoli sembra nella Bibbia addirittura esserci scritto il contrario della verginità della Madonna sembra così non è però ci vogliono delle attrezzature per uscire fuori da alcune apparenti aporie che alcuni testi stessi insomma ti mettono in condizione di farlo non ecco perché bisogna fare sempre attenzione cioè la Bibbia non ci si può accostare a uno spirito intraprendente caribaldino la Chiesa ne raccomanda a tutti la lettura spirituale volta ad edificare la propria anima ma quando ci si imbatte in passi un po' oscuri nessuno si mette a fare l'esegeta o il teologo si pensi che adesso va a fare chissà quale grande scoperta e quanto sono stupidi quelli della Chiesa che ancora non ci sono avvivati questo è fenomeno assicuro non infrequente tra tra i cultori diciamo così dei testi sacri ma è che evidentemente poi forviante tutte quante le cose sono buone ma come dicevano i classici è il modo con cui ci accostiamo una cosa che poi la può far diventare non buona ci sono tanti esempi la comunione sacramentale cosa c'è di più santo dell'Eucaristia ma se uno si accosta all'Eucaristia senza essere in grazia di Dio che succede che l'Eucaristia diventa meleno diventa meleno lei ma diventa meleno per te perché tu per come stai non ti puoi accostare all'Eucaristia quindi d'accordo vanno gli uni agli altri a questo sacro banchetto scriveva San Tommaso d'Aquino nella sequenza del Corpus Domine vai il giusto e vai il peccatore ma ben diversa è la sorte non dipende dall'Eucaristia dipende dal modo in cui uno si accosta la Bibbia è una cosa santa ma se ti ci accosti in una maniera non consona la Bibbia diventa il tuo meleno purtroppo spero di essere chiaro quando sto cercando di spiegarmi al meglio possibile ecco mi raccomando niente fraintendimenti su cose così delicate no? quindi le rivelazioni private torniamo da dove sono partite a che servono? c'è la tradizione c'è il Magistero della Chiesa sì allora numero uno alcune cose non maturano subito nel Magistero stesso della Chiesa attenzione ogni nuovo dogma ogni nuova diciamo così verità che nuova poi in realtà non è ma diciamo appare come tale si svolge nel corso del tempo la Chiesa ha i suoi tempi per maturarla a volte il nostro Signore che fa? dà qualche piccolo aiutino come? cioè il fatto che la rivelazione si sia chiusa con la morte dell'ultimo apostolo non ha impedito al Signore questo è evidente insomma di continuare a svolgere la situazione salvifica come vuole quando vuole con chi vuole cioè tutti quanti sanno che una Santa Teresa d'Avila c'ha avuto le estasi c'ha avuto le le visioni Santa Brigida per fare un pochino più conosciuti Padre Pio c'ha avuto le stigmate non è che uno c'è qualcuno c'ha provato a dirgli che non era uno stigmate vero insomma non c'è molto non c'è molto riuscito ma cosa sono questi? questi sono interventi che Dio fa perché Dio certamente segue un ordine nel suo procedere quindi ha dato la rivelazione pubblica che vuole che quella sia presa come punto di riferimento senza dubbio però non si è legato le mani e si può permettere di dare qualche piccolo aiutino alla sua chiesa come? o suscitando grandi teologi grandi papi grandi vescovi che cominciano a riflettere e a produrre diciamo così quella stimolazione teologica che poi porta all'approfondimento magari anche alla definizione di una nuova verità di fede o di un nodo oppure oppure il nostro signore ci pensa a lui l'esempio eclatante uno degli esempi più classici è la festa del Sacro Cuore e le rivelazioni sul Sacro Cuore chi riconosce sa che già nel Medioevo San Buonaventura è stato uno dei primi precursori di questo quindi c'era si stava cominciando a sviluppare perché poi la grazia opera nei cuori una certa come dire spiritualità e devozione ma noi abbiamo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù perché? perché il nostro signore ha detto a Santa Margherita che voleva questa festa dalla chiesa abbiamo la festa della Divina Misericordia perché il nostro signore Gesù Cristo ha detto a Santa Faustina Kovarska di dire al Papa che vuole restituita questa festa ci sono voluti quasi 80 anni però la festa della Divina Misericordia è arrivata da dove? da una rivelazione privata il dogma dell'assunzione certamente non dipende dalla rivelazione arrivata ma tre anni prima dell'assunzione il 12 aprile del 1947 la Madonna apparve a un protestante che poi si convertì di nome Bruno Cornacchiola e gli disse il mio corpo non poteva marcire e non marcire e non poteva marcire e non marci gli angeli vennero a prenderlo e lo portarono in cielo Pio XII siccome questo uomo voleva uccidere Pio XII ha saputo molto bene quello che la Madonna disse alle tre fontane non è che ha fatto il dogma dell'assunta per quello che la Madonna ha detto a Bruno Cornacchiola le tre fontane nel 12 aprile del 1947 ma sarà stato indifferente non l'avrà un pochino anche corroborato questa cosa nella sua intenzione di portare a definizione dogmatica questa cosa io penso di sì sono aiuti che il Signore ha dato allora questi aiuti allora come una definizione dogmatica in realtà non aggiunge quasi nulla di nuovo alla dichiarazione in che senso certo in un certo senso sì perché afferma esplicitamente come rivelato una cosa che fino a prima non si poteva considerare come tale però il processo che c'è dietro è sempre un processo come dire eseggetico in senso stretto cioè capisco mi accorgo che nella rivelazione c'era anche questa cosa la porto fuori eseggeti esago quindi la tiro fuori e la propongo con l'autorità che il Signore ha mandato questa cosa che possono fare sempre solo i vescovi e il Papa ok alla rivelazione privata similmente non aggiunge nulla alla rivelazione pubblica niente quindi tutto quello che ogni rivelazione privata dice è contenuto nella rivelazione pubblica ma è contenuto in termini eterei cosa si dice per esempio di Adamo nel libro della Genesi che camminava in questo giardino giardino dell'Edel cos'era un posto fisico una condizione possiamo pensarlo come lo vogliamo e c'aveva un rapporto con Dio tu per tu proprio intimissimo che significa questa cosa che significa sì lo stato di giustizia originale allora quello che il nostro Signore ha rivelato è che ciò da cui dipendono tutti i doni che poi la Chiesa ha giustamente attribuito ad Adamo perché erano proprio quelli dipendono dal dono dei doni sto citando alcune frasi per chi ha seguito la diretta questo non si vede nel video perché tolgo queste cose se no poi su YouTube mandano subito i reclami per il diritto d'autore ho introdotto questa catechesi con il canto di Deborah Rezzani il prodigio dei prodigi il dono dei doni la mia volontà ti darò la pienezza della felicità questo abbiamo già parlato no? qual è il dono dei doni? quello da cui tutto dipende è perso quello Adamo ha perso tutto ecco perché non c'è più doni soprannaturali né quelli preternaturali e quelli naturali sono rimasti ridotti a minimi termini che sembra è come dire un infermo a vita anche se gli arti sono tutti quanti più o meno apposti aveva aveva il dono della divina volontà perché cosa ci dice il libro della Genesi ancora dove stava Adamo in un giardino l'Edel la chiesa ha chiamato il paradiso attenzione terrestre a cui sarebbe eseguito il paradiso celeste noi per avere un'idea adeguata di Dio questo l'abbiamo già visto nel percorso che abbiamo fatto non dobbiamo andare alle origini che la gente è sciocca e dice guarda quanto male che c'è nel mondo e Dio dov'è? povero povero Dio non soltanto che ti aveva dato il bene ma te l'aveva dato in una massima cosa possibile Dio è amore Dio dalla parte nostra Dio vuole la nostra felicità nient'altro che questo creando l'uomo che cosa ha fatto? lo mette nel paradiso terrestre cioè un anticipo reale ma la vita di Adamo è una cosa bellissima meravigliosa questa terra se noi impariamo a guardarla in un certo modo se la vediamo con gli occhi di Dio anche se molto spesso è ridotta male chi ha fatto un pochino di 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 vacanze pensiamo anche adesso con tutte quante queste turbinie beato chi c'ha voglia lo dico veramente con tanto con tanto amore beato che c'ha voglia di leggere i giornali di vedersi i notiziari insomma di andarsi a bombardare le orecchie con tutte quante queste sapete che pensavo nei giorni scorsi quando stavo su alte montagne in quei posti dico ma o anche quando si vede semplicemente un animale domestico e non c'è dico ma tu guarda questi questo ti importa a tutte queste montagne tutti quanti questi alberi tutto questo sommovimento questo tempo così strano che stiamo vivendo dove sembra che sta arrivando la fine del mondo ma questo non importa niente cioè qui vai lì e apri un altro capitolo cioè un capitolo che non c'entra niente con quello che stiamo con quello che nella 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 massa degli uomini intelligenti e pensati lì c'è un'altra cosa cosa c'è lì c'è la creazione conoscita dalle maie di Dio c'è la creazione bella c'è la creazione intangibile tu ti vedi stimotti ti vedi un sasso lungo imponente stentorio chi lo smuove dalla allora questo per dire cose che Dio le cose le ha fatte tutte bene crea l'uomo perché crea l'uomo per vederlo felice ma Dio ha creato che chi ne portava a lui di dover creare ma che cioè Dio era perfettamente felice in se stesso ma proprio perché era così tanto felice dice ma che ci inventiamo secondo il nostro modo di parlare il Signore mi perdonerà facciamo così facciamo qualcuno che ci assomiglia è una creatura non è come noi ma quanto siamo felici noi tre cioè ma la felicità della Santissima Trinità è qualcosa di indescrivibile di intangibile tra l'altro ma vogliamo fare una bella cosa famo delle creature che ci assomiglino quindi che siano intelligenti che siamo liberi che abbiamo la volontà e li facciamo star felici come noi bello no? guardate che cioè quando uno padroneggia bene alcuni dati di fede ecco che è così importante ma la vita diventa un'altra cosa che cosa doveva fare Adam? godersi quello che ci aveva e qual era la grande prova? la grande prova era veramente facile ma so così contento io me ne resto con il nostro Signore ma lo devo scegliere con un altro libro devo scegliere con una perché Dio non vuole schiavi tra i suoi amici quindi tutto quello che ti ha dato tu devi avere la possibilità di volerlo accogliere o di volerlo perdere ma è da folli perderlo è certo che è da folli ma se non ci avessi questa possibilità tu non saresti veramente libero se non fossi libero non saresti immagini e somiglianza di Dio quindi non potresti neanche essere felice al modo con cui lo è Dio è felice un monte non credo che sia felice un monte insomma perché un monte è fatto di materia inerte o poi se sa mai ci stanno dei segreti sconosciuti nel mondo naturale è felice un animale beh se si la pasticchia bene con una piccola felicità naturale si ma insomma parla con qualcuno che ha visto la Madonna insomma ti dirai che vedere la Madonna è un godimento molto molto maggiore insomma che mangiarsi una bella una bella ciotola di croccantini saporiti insomma come vanno gli animali che è uno dei loro massimi godimenti allora con oggi ci fermiamo così abbiamo introdotto Dio e Creatamolo mette nel paradiso del resto e perché? per fargli vivere una vita meravigliosa dove quindi cominciando a godere cominciando a a sviluppare il creato messo lì a disposizione da Dio ad abbellirlo ad arricchirlo trascorre un tempo qui e dopodiché va a finire di godere perfettissimamente proprio pienamente assimilato ai godimenti divini nel paradiso celeste terrestre e celeste abbiamo da poco festeggiato l'assunta spero che i vostri pari ci siano stati bravi ma che cosa è l'assunta? la vita della madonna eccettuato purtroppo tutto il carico di dolori che ha dovuto avere perché sia lei come Gesù oggi ho letto una bellissima lettura del grande San Leone Magno Gesù era innocente ma Gesù si è incarnato in un corpo simile a quello del peccato il dolore la sofferenza e la morte l'abbiamo visto solitati col peccato quindi la madonna in quanto cooperatrice con Gesù l'opera della redenzione ha dovuto soffrire tantissimo ma attenzione per volontà di Dio finalizzata la salvezza dell'umanità ma di per sé la madonna non c'era niente da soffrire e infatti ci sono molte sfide di questo concezione virginale parto virginale assunzione al cielo non passare attraverso la corruzione della morte avere già la pienezza della glorificazione in corpo e l'anima spero che i vostri pari gli abbiano detto che se non ci fosse stato il peccato questo sarebbe stato per tutti come lo è stato per la madonna con una cosa ancora più bella non avremmo neanche conosciuto che cos'è il dolore e la sofferenza né la malattia né le racchie né il lutto né la tribolazione dovunque vediamo qualcosa del genere noi dobbiamo sempre dire questo c'è a causa dell'uomo a causa anche mia Dio non c'entra niente con sta volta allora Adamo io insomma mi sono sempre un po' di difficoltà perché adesso Adamo ha poi entrato in paradiso quindi sto un po' in difficoltà perché Adamo adesso è un'anima beata insomma no quindi bisogna trovarci si può nelle situazioni a un certo punto pecca non supera la prova e perde tutto ma la cosa principale che perde è la divina volontà da cui tutto dipende cosa ha venuto a fare il nostro Signore Gesù Cristo? è venuto a compiere l'opera della redenzione tutti questi non lo sappiamo e che significa? che cosa significa? significa che la situazione innescata con il peccato originale è irreversibile e alcune cose sono rimaste Gesù ci ha redento giusto? ma noi moriamo giusto? tutti moriamo sono tutti terrorizzati dalla morte io non capisco che cosa ci sia da essere terrorizzati da una cosa che tutti dovremmo vivere l'abbiamo sempre saputo come dove e quando sì per carità per qualcuno può essere importante ma una cosa del tutto marginale moriremo il peccato originale viene trasmesso anche dopo il sacramento del matrimonio perché il sacramento del matrimonio rende lecito rende lecita la vita coniugale ma tu dici come? quelli concepiscono all'interno di un sacramento un mal peccato originale lo trasmettono lo stesso ci sono delle cose che sono cambiate e resteranno cambiate per sempre allora la prima cosa che ha fatto il nostro signore è qui l'uomo sta sotto un treno bisogna rimetterlo in piedi compie l'opera della retenzione questo l'abbiamo visto nella prima parte nella seconda parte di questo ciclo e ci mette a disposizione i sacramenti che sono indispensabili se ti vuoi rimettere in sesto sarebbe come se tu ti è venuto veramente sopra un treno e tu te ne vai in ospedale che non c'è più niente che ti ha aggiustato c'è le ossa rotte le braccia rotte la testa rotta lo sterno rotto le gambe rotte tutto è tutto rotto te devi rimettere in piedi devi rimettere in piedi a questo servono i sacramenti a questo servono la retenzione a questo servono la preghiera chi vive senza sacramenti anche se non lo sa sta sotto un treno non è che non lo sa la gente ripeto non voglio ripetere tutto quanto il ciclo dei carichesi no sta male sta depressa sta in crisi sta triste sta angosciata sta agitata d'accordo non sa che santo votasse non sa che pesci prende e non sa da cosa dipende dipende da questo dipende solo da questo che non stai in perfetta comunione con Gesù non hai preso i mezzi che lui ha dato per la tua salvezza che significa salvezza significa questo significa che po' che significa se tu cominci a fare una vita di questo genere quindi che significa te ripigli dicono a Roma te ripigli te li metti in piedi guarisci forse sarà un po' storto però te li metti in piedi però capite come quando una macchina fa un incidente no? sapete quando una macchina fa un brutto incidente il carrozziere può essere bravo quanto le pare ma una macchina non è come una volta oh il Signore però non si è accontentato di rimetterci in piedi il suo grande progetto è di ridarci non proprio uguale ma quasi quello che Adam ha perduto ecco la vita di cielo questa è un'introduzione la prossima volta cominceremo ad approfondire vi presenterò anche l'ho fatta apposta a non farlo insomma chi è questa santa donna umilissima destinataria di tutte e quante queste cose meravigliose che Gesù gli ha detto e con altre due o tre puntate non lo so una presentazione mamma quanto mi interessa sta cosa poi vi dirò dove andarla a approfondire però una piccola presentazione la farò anche al termine di questo ciclo di Cateches carissimi ci vediamo se ti vuole per il prossimo adesso faccio il bravo non ci dovrebbero stare troppe interruzioni intanto un santo fine settimana a chi è seguito la diretta Dio vi benedica la Santa Vergine vi protegga e se ti vuole ci vediamo la prossima settimana a presto a presto a presto